Salviamo la biblioteca calabrese, il più grande centro di documentazione della Calabria e rischia di chiudere i battenti. Il consigliere della regione Giuseppe Mangiolavori chiede all'intervento del presidente Mario Oliverio per il presidio culturale di Soriano. Aggredito e costretto alla truffa, vittima un artigiano lamettino, costretto a simulare i danni di un incidente, richiesta di rinvio a giudizio per sette indagati, tra questi anche un noto avvocato del foro di Lamezia Terme. Comunale a Vibo, la sfida di Lo Schiavo, ieri la presentazione del programma elettorale davanti ai rappresentanti del PD, entra nel vivo la corsa del giovane notaio vibonese. Angela Napoli, una vita per la legalità, presentato a Vibo Valencia il libro intervista realizzato da Orpeo Notari Stefano sull'esperienza della coraggiosa ex parlamentare di Tauria Nova ancora oggi sotto scorta. Telespettatori di La C, buona domenica, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione, lo avete sentito nei titoli. Apriamo questa edizione del telegiornale con il rischio che il grande centro di documentazione della Calabria, di Soriano Calabro, venga chiuso. Su questo tema il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori ha chiesto l'intervento della presidenza della regione. Una biblioteca da salvare, un presidio culturale unico in Italia e nel mondo, perché rappresenta il centro di documentazione libraria sulla Calabria più grande che esista, oltre 50.000 volumi ed un patrimonio di conoscenza che affonda le sue radici nei secoli. La sua sopravvivenza è a rischio perché, come ha denunciato il direttore Francesco Bartone, ospite degli studi della C, la legge regionale 19 del 1995, che assicura il sostegno alla biblioteca calabrese di Soriano Calabro, non viene finanziata dal 2011. E così questo scrigno di cultura e conoscenza rischia di chiudere i battenti. Lo stesso Bartone, che ha rivolto il suo appello al neogovernatore Mario Oliverio, al vicepresidente della giunta regionale Enzo Cicconte, non ha esitato a spiegare come egli stesso abbia dovuto pagare di tasca propria le bollette per l'energia elettrica. Fino a questo momento la politica ha taciuto. L'unica ad interessarsi concretamente dalla sopravvivenza della biblioteca calabrese è stato il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, il quale, dopo essersi recato personalmente a Soriano e dopo aver incontrato il direttore Bartone, ha inoltrato un'interrogazione al governatore evidenziando, ha scritto Mangialavori, che la permanenza di tale biblioteca va tenacemente e prioritariamente perseguita sia per il patrimonio librario custodito, sia per le sue innumerevoli potenzialità di aggregazione sociale, presentazione libri, convegni, finalità educative e didattiche. Da qui la richiesta al neopresidente della regione di adottare misure idonee ad assicurare la presenza e il mantenimento dell'istituto della biblioteca calabrese attraverso il sostegno economico necessario per scongiurarne la chiusura. Aggredito e costretto alla truffa, richiesti sette rinvii a giudizio per altrettanti soggetti che sarebbero stati protagonisti di alcuni fatti avvenuti nel 2010 alla Mezzia Termo. È coinvolto anche un noto avvocato del Foro Lametino. Le accuse sono a vario titolo di estorsione, truffa, lesioni gravi e violenza privata. Il servizio di Tiziana Bagnato. Sarebbe stato aggredito per avere chiesto spiegazioni in merito ad un violento diverbio con il figlio e poi in ospedale, dove si trovava con ben 85 giorni di prognosi, l'uomo, un artigiano lametino, sarebbe stato minacciato e costretto a simulare una truffa ai danni di un'agenzia assicurativa. Ora il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Elio Romano, ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Alessandro, Luigi e Franco Trovato, Antonio Voci, Francesco Cosentino e Francesco Gigliotti, ma anche per l'avvocato che sarebbe stato compiacente, Giovanni Scaramuzzino. Sui imputati pendono a vario titolo le accuse di estorsione, truffa, lesioni gravi e violenza privata. Il tutto aggravato dal fatto di aver agito all'interno di un meccanismo che avrebbe agevolato la cosca Giampà. Sembra quasi il copione di un film, ma secondo l'accusa, i fatti risalenti al 2010, che ricordano a tratti una sorta di arancia meccanica, farebbero invidia ad una pellicola. L'artigiano sarebbe stato malmenato con calci e pugni, colpito con un grosso martello di ferro e ferito più volte con un taglierino con il quale poi gli sarebbe stato anche sfregiato il viso in modo permanente. Durante il ricovero in ospedale l'uomo avrebbe ricevuto poi la visita di alcuni degli imputati che oltre a minacciarlo affinché non denunciasse l'aggressione, lo costrinsero ad affermare che le lesioni erano dovute ad un incidente stradale. La pratica sarebbe stata curata poi dal legale Scaramuzzino, che una volta fatto ottenere il rimborso dalla compagnia, avrebbe secondo la Guardia di Finanza provveduto a ricevere il bonifico e a girarne una parte ai fratelli trovato. E ora uno sguardo alle altre notizie di cronaca della giornata. Un giovane di Catania è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Condofuri in provincia di Reggio Cabria per spendite e introduzione di monete false. Gli agenti hanno notificato al giovane la misura cautelare dell'obbligo di dimora emesso dal GIP di Reggio Calabria. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia della titolare di una cartoleria che ha raccontato che un giovane aveva acquistato vario materiale pagando con banconote di grosso taglio false. Aveva in casa 80 grammi di marijuana in una banconota da 100 euro risultata falsa. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinvenimento di banconota falsa. A seguito della perquisizione domiciliare in casa del 51enne, i militari hanno segnalato anche il figlio, 27enne dell'uomo, trovato in possesso di un modesto quantitativo di marijuana e di una pianta di canapa indiana dell'altezza di 85 centimetri coltivata in un vaso all'interno dell'abitazione. Tutta la sostanza stupefacente, la banconota e un bilancino sono stati sequestrati. Ritornano in libertà i due pescatori sorpresi a prelevare il novellame sull'arenile di Nicotra Marina. Salvatore Di Capo e Filippo Saffioti erano finiti in manette venerdì scorso nell'ambito di un'operazione condotta dai militari delle capitanerie di Vibo Valencia e Gioia Tauro per contrastare la pesca illegale di novellame. Il pubblico ministero del Tribunale di Vibo Valencia, Barbara Buonanno, ne ha decretato la scarcerazione per mancata consegna degli atti. Si è costituito consegnandosi ai carabinieri di Bologna accompagnato dal suo avvocato l'imprenditore Palmo Vertinelli, latitante nell'operazione Emilia condotta dalla DDA. Per lui il GIP aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare cui era sfuggito il 28 gennaio. È accusato, tra l'altro, di associazione a delinquere di stampo mafioso e di essere uno dei prestanome delle cosche di Indrangheta in Emilia. La politica vibonese. Ieri la presentazione del candidato del PD Antonio Loschiavo presente il gota provinciale e regionale della compagine. I dettagli nel servizio di Tonino Fortuna. È una bella giornata, una grande partecipazione. È il segnale che i cittadini vogliono partecipare e vogliono scegliere. Questo è un buon segnale per il 22 febbraio. Ecco, noi abbiamo fatto un bel percorso. Un salone gremito. In molti sono costretti a rimanere in piedi. E l'entusiasmo sale alle stelle tra le file del Partito Democratico vibonese nel pomeriggio in cui Antonio Loschiavo presenta alla città la propria candidatura alle primarie dalle quali scaturirà l'uomo su cui il centrosinistra punterà alle prossime elezioni di primavera. Il PD dunque si presenta compatto all'appuntamento e fornisce una vera e propria prova di forza. In prima fila gli opposti che incredibilmente tornano ad attrarsi. Il renzianissimo Gianluca Callipo seduto al fianco del parlamentare Bruno Censore e ancora diversi consiglieri regionali da Nicola Irto ad Arturo Bova il sindaco di Rosarno e Lisabetta Tripodi assente di peso, solo Francesco Denisi. Accanto allo schiavo Stefano Soriano e Michelangelo Mirabello segretario cittadino e provinciale del PD. L'acqua potabile, i rifiuti, il dissesto finanziario e la necessità di attrarre investimenti con i fondi europei, di rilanciare il porto, di rimettere in moto l'area industriale trasformata in un deserto e ancora il decoro urbano, l'attenzione per le frazioni ma senza promesse impossibili. Queste le priorità del giovane notaio che prepara la sua sfida per la riconquista della città da parte del centrosinistra dopo cinque anni, dicono loro, di malgoverno della destra. Come risollevare Vibbo, una città in dissesto, in preda all'emergenza rifiuti, con tante difficoltà? Intanto ridando un'identità a questa città che deve avere una visione del futuro, deve ritornare ad avere speranza e deve cominciare a puntare su una nuova classe dirigente che abbia competenza e si metta al servizio dell'amministrazione comunale. Bisogna aggredire i problemi, non promettendo cose realizzabili, ma con la competenza, con lo studio e con l'ausilio di tante energie e di tante idee che in questa città ci sono. Fondi per 650 mila euro che rischiano di andare persi, uno dei temi oggettivo dell'incontro a Reggio Calabria tra il prefetto di Vibo Valencia, Giovanni Bruno, e il vice capo della polizia. Ben 650 mila euro per un progetto destinato a cambiare radicalmente il sistema della sicurezza a Vibo Valencia nelle sue frazioni. Un progetto che rischia di andare in malora, in ritardo, troppo in ritardo rispetto al crono programma, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola D'Agostino entro giugno tutto dovrà essere a posto, altrimenti addio ai finanziamenti europei dei Ponsicurezza per l'impianto di videosorveglianza che dovrà monitorare Vibo Città, così come le frazioni Vibo Marina, Piscopio e Triparni. A prendere in mano la situazione, già da lunedì, sarà il prefetto Giovanni Bruno, reduce dall'incontro a Reggio Calabria con il vice capo della polizia, Fulvio della Rocca, un vertice cui hanno preso parte i prefetti calabresi e nel corso del quale il capo dell'ufficio territoriale del governo vibonese ha spiegato come il comune di Vibo Valencia sia in grave ritardo nel crono programma sulla videosorveglianza. Lo stesso Bruno ha ribadito che per non esorcizzare il rischio che l'amministrazione comunale perde il finanziamento, provvederà egli stesso a dare una sferzata alla pratica, un po' come è venuto proprio all'Imbadi, dove sorgerà il centro studi antimafia non immobile sottratto al clan Mancuso i cui lavori erano fermi dal 2011. Anche in quel caso è stata necessaria la mano taumaturgica del prefetto di Ferro, costretto spesso a sostituirsi alla politica per dare alla comunità le risposte attese e non più procrastinabili. Così in tre mesi si è fatto quel che non è stato fatto nei tre anni precedenti e con la videosorveglianza dovrà farsi altrettanto. Intanto a Catanzaro si consuma una polemica fra Sergio Abramo e Tallini. Domenico Tallini, il sindaco di Catanzaro parla di condizionamenti politici, il capogruppo di Forza Italia non ci sta e risponde alla gestione su tutto, si rischia l'isolamento. Il sindaco Sergio Abramo ha allargato la giunta cosiddetta tecnica portandola da sei a nove assessori. Di questi, ben sette sono direttamente riconducibili allo stesso sindaco Abramo ed uno solo fa riferimento al gruppo di Forza Italia. Un'aggiunta monocolore l'ha definita il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Domenico Tallini e nonostante al primo cittadino appartengono tutte le scelte compiute per la guida delle società partecipate, AMC, Fondazione Politeama, Catanzaro Servizi e la scelta dei dirigenti, Tallini ci vuole vedere chiaro e capire quali sarebbero stati i condizionamenti dei quali il sindaco avrebbe dovuto smarcarsi ai vantaggi che il consigliere comunale o il partito che rappresenta avrebbero acquisito sul piano gestionale. Mi aspetto che Abramo con molta chiarezza e lealtà dica pubblicamente che nessuno lo ha condizionato nelle sue scelte. Per quanto mi riguarda ritengo di aver messo a disposizione il mio consenso, la mia esperienza e i riconoscimenti che mi sono guadagnato sul piano regionale per rendere più stabile l'amministrazione Abramo sobbarcandomi un delicato lavoro di diplomazia che oggi qualcuno in modo ingrato fa fatica a riconoscere. Se un solo suggerimento mi è permesso al sindaco direi che la strategia del galleggiamento in attesa di tempi migliori non paga e che la strada maestra è sempre quella del rapporto con i partiti politici che hanno dignità al radicamento e rappresentanze istituzionali a vari livelli. La strada dell'auto isolamento soprattutto quando non è motivata invece è pericolosa e piena di incognite. Le altre notizie della giornata Continua la protesta dei circa 400 dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo Valencia senza stipendio dal mese di novembre. Domani si asterranno dal lavoro e nel primo pomeriggio una delegazione si recherà a Palazzo Alemanni per incontrare l'assessore regionale con delega al bilancio Vincenzo Ciconte che si è detto disponibile ad ascoltare le ragioni dei lavoratori e a trovare una via d'uscita alle difficoltà che sta affrontando la provincia di Vibo. Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione del quartiere Pennello di Vibo Marina. L'intervento prevede una spesa di oltre 4 milioni e mezzo di euro di fondi Pisu. In particolare sarà realizzata una lunga scogliera a mare per proteggere abitazioni condotte fognarie idriche e strade che si trovano a poche decine di metri dall'arenile previste anche piste ciclabili e pedonali e un parcheggio. Nel 2007 vennero realizzati i lavori di riqualificazione di Piazza Capanine sul lungomare interventi che non riuscirono però a fermare l'erosione costiera tanto che la piazzetta sprofondò danneggiando anche un chiosco. C'è tanta neve sulle piste da sci in Calabria dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. A Camigliatello Silano l'innevamento è di un metro a valle e di due metri a monte e tutte le piste sono aperte per la gioia degli amanti degli sporti invernali. Impianti in funzione a pieno ritmo anche a Villaggio Palumbo sul darsante crotonese dell'altopiano dove è utilizzabile l'intera area. Si sci anche sulle piste di Gambari ed Aspromonte con vista sullo stretto di Messina. A Vibo a Valencia nella cornice di Palazzo Santa Chiara la presentazione del libro intervista realizzato da Orfeo Notari Stefano sull'esperienza della coraggiosa ex parlamentare di Tauria Nova Angela Napoli ancora oggi sotto scorta. Angela Napoli l'antimafia dei fatti vent'anni di impegno politico e civile come gesto d'amore per la sua terra raccontati nel libro intervista che Orfeo Notari Stefano giornalista e scrittore ha realizzato sulla storia dell'ex parlamentare antimafia ancora oggi sotto scorta. Il volume edito da Falco editore è stato presentato a Vibo Valencia nella sala conferenze di Palazzo Santa Chiara nel corso di un'iniziativa promossa dall'associazione Risveglio Ideale alla quale hanno preso parte l'editore Michele Falco la penalista Giovanna Fronte il presidente provinciale di Libera Monsignor Giuseppe Fiorillo il direttore responsabile della C. Pietro Comito e naturalmente l'onorevole Angela Napoli e l'autore Orfeo Notari Stefano. Questo libro raccoglie vent'anni di impegno di Angela Napoli nelle istituzioni io aggiungerei anche fuori dalle istituzioni. cioè nei territori non a caso l'ultimo capitolo di questo libro è interamente dedicato a Risveglio Ideale vale a dire all'associazione che Angela Napoli ha messo su e che mi viene da dire che si può fare politica anche con altri mezzi oltre che quelli istituzionali. e adesso ascoltiamo le dichiarazioni di Angela Napoli rilasciate a margine della presentazione del libro intervista. Mi augurerei potesse servire questo testo da conoscenza e da aiuto per un lavoro in progress anche per far capire che la soluzione dei problemi che attanagliano in particolare la nostra Calabria sì dovuti alla presenza dell'andrangheta ma anche del sistema di malaffare e di corruzione possono essere superati solo se si parte da una conoscenza di questo sistema che è gestito ed è stato gestito assolutamente all'insegna della legalità l'antimafia dei fatti perché non c'è nessuno missis nel libro. Onorevole rimpianti e rimorsi in questa esperienza? No non ho alcun rimpianto nel senso che sono tranquilla cosciente di aver fatto per quello che ho potuto il mio dovere e di essere rimasta sempre con la schiena dritta quindi non ho rimpianti La lotta ai patrimoni delle cosche all'istituto Marafarina di Soverato la presentazione del volume e le indagini economico-patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata realizzato da due ufficiali delle Fiamme Gialle il servizio di Gabriella Passariello Le indagini economico-patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata questo è il titolo del libro edito da Domenico Frostagli e Giuseppe Forciniti entrambi ufficiali della Guardia di Finanza con il grado di tenente colonnello presentato all'istituto tecnico-tecnologico Malafarina di Soverato l'iniziativa promossa unitamente all'Università Magna Grecia di Catanzaro ha registrato la partecipazione di importanti relatori del mondo delle istituzioni e dell'università agli studenti è stato spiegato come soltanto con l'aggressione ai patrimoni è possibile recidere il legame collusivo tra il crimine organizzato e il mondo dell'imprenditoria e della politica sulla base dell'esperienza operativa maturata che per combattere la criminalità organizzata oggi in Italia non è più sufficiente l'attività repressiva che vada a colpire le persone nel senso che vada ad applicare delle misure restrittive della libertà personale ma che sia necessario aggradire la criminalità organizzata in quello che è il vero pilastro portante di questa organizzazione che è appunto il potere economico e attraverso il quale riescono poi naturalmente ad acquisire il consenso e il controllo sociale ed economico del territorio per addivenire poi ad una sorta di accordo collusivo con il mondo politico ed istituzionale solo recidendo questo accordo collusivo solo andando ad colpire quello che è il potere economico riusciremo ad recidere questo vincolo e questo accordo collusivo e quindi riusciremo veramente ad infliggere dei colpi mortali alla criminalità organizzata la criminalità organizzata oggi che cosa fa acquisisce il potere economico del territorio attraverso il quale gestisce quelli che sono il bacino dei posti di lavoro acquisisce un consenso elettorale e lo scambi attraverso il voto di scambio politico mafioso per ottenere in cambio ancora maggior potere da parte delle istituzioni torna il carnevale di Catanzaro Lido la manifestazione carnascialesca la cui tradizione si era affermata nel 2009 con la scomparsa dello storico organizzatore Umberto Catacchio carnevale in kayak travestiti da pirati carnevale tutto da ridere da vivere e da vedere nella suggestiva cornice offerta da Catanzaro Lido centinaia le mascherine d'ogni etasce se in piazza tra danze marce e cortei carnevaleschi per la gioia soprattutto dei bambini e delle loro famiglie complice la temperatura mite che ha spazzato via il freddo pungente delle giornate precedenti si è registrata una grande partecipazione anche dai centri limitrofi e d'oltre provincia occasione colta dall'amministrazione comunale che ha anche messo a disposizione il trenino della MC per un tour panoramico nel giorno della festa più colorata dell'anno una festa nella semplicità senza strafare ma ben riuscita che ha svegliato dal torpore una comunità che ha iniziato il 2015 con la fervida volontà di lasciarsi alle spalle gli anni bui della crisi economica la manifestazione organizzata sul lungomare non si svolgeva più dal 2009 quando scomparve Umberto Catacchio suo storico promotore il carnevale 2015 ha visto anche la partecipazione del gruppo Kaya Kers Calabrian K2O e partita da via Bausan ha percorso l'intera frazione facendo ritorno a Piazza Dugana l'organizzazione è stata curata da Murano Stori vetrine sul mare dall'associazione Seaside che hanno inteso far rivivere finalmente una bella tradizione che c'è da scommetterci si ripeterà anche nel 2016 Uno chef calabrese nel tempio del rugby alleaterà il terzo tempo del 6 nazioni di rugby con la sua cucina calabrese convocato a Twickenham è stato scelto il celebre cuoco di Cerchiara di Calabria all'incontro del 6 nazioni rugby che si terrà a Twickenham quando le nazionali di Inghilterra e Italia oltre a brindare con prosecco e vini calabresi gusteranno la pizza e la cucina calabrese dello chef Mazzei per allietare i momenti dell'incontro di rugby cui assisteranno gli ospiti presenti nella tribuna VIP dello stadio ospitante il momento clou sarà rappresentato dal famoso terzo tempo quello che segue la conclusione del match quando i 2.15 e gli ospiti accreditati per gli spogliatoi si scambieranno le cordialità tipiche del gioco del rugby con le specialità enogastronomiche calabresi a base di funghi peperoncino patate indui e tanto altro preparate proprio dallo chef Mazzei la banda del sorriso al pugliese Ciascio di Catanzaro un po' di momenti di spensieratezza per i giovanissimi decenti del reparto di oncologia sentiamo il servizio canti, danze, colori è la banda del sorriso quella che approda tra le corsie del reparto di onco e matologia pediatrica del Ciaccio di Catanzaro una giornata speciale nell'approssimarsi del carnevale per assicurare un sorriso e un po' di spensieratezza ai giovanissimi pazienti che combattono una grande battaglia un'iniziativa molto apprezzata e che la banda del sorriso ripeterà noi siamo dell'istituto dei nobili di Catanzaro durante le festività organizziamo a turno delle classi che cercano di portare un sorriso ai bambini dei genti lo scopo di questa attività è insegnare e soprattutto trasmettere alle nostre alunne quello che di bello possono prendere dal sorriso di un bambino ecco perché l'abbiamo denominata banda del sorriso il programma alle dieci e mezza svolgiamo questo treno della pace che è questo treno particolare che viaggia su un binario un po' speciale dispensando amore però andando anche in paesi particolari quindi tratteremo la fame la povertà però soprattutto tutto questo si risolverà con questo treno della pace che andrà su questo binario della pace dell'amore di integrazione e multiculturalismo si è parlato a Casole Bruzio durante l'incontro dal titolo Islam tra paura e consapevolezza conoscere l'Islam per conoscere il mondo organizzato dai giovani democratici l'integrazione passa attraverso la conoscenza questo è il senso dell'incontro tenutosi a Casole Bruzio dal titolo Islam tra paura e consapevolezza conoscere l'Islam per comprendere il mondo organizzato dai giovani democratici ospite dell'iniziativa l'imam di Cosenza Ahmed Berraou che ha invitato i giovani a conoscere la religione islamica così come tutti gli altri culti perché la conoscenza delle altre culture rafforza l'integrazione e la convivenza pacifica fra comunità molto diverse fra loro per sconfiggere la paura il timore che regna adesso nel mondo occidentale l'Islamofobia per questo incontrarsi discutere spiegare bene le cose come sono fa tranquillizzare la gente perché ci sono tante domande da rispondere io qui ho visto questi ragazzi della scuola e tutti questi presenti che erano qui erano interessantissimi di capire cos'è il vero volto dell'Islam quell'Islam tradizionale quell'Islam pietoso quell'Islam misericordioso quell'Islam che predica la carità che predica l'amore che predica la fratellanza che predica l'aiuto al prossimo grande successo al Rendano di Cosenza per Luigi De Filippo e la sua commedia Sbornia di una notte di mezza estate Ennesimo tutto esaurito all'Arrendano di Cosenza per il doppio appuntamento dedicato al teatro di Edoardo Luca De Filippo ha portato in scena una delle commedie più esilaranti scritte dal padre nel 1936 Sogno di una notte di mezza sbornia un riadattamento di un testo La fortuna si diverte di Atos Setti utilizzando lo stile comico a volte grottesco fino a pervenire alla farsa Edoardo combina la forma della classica e antica tradizione teatrale napoletana con le tematiche sviluppate appieno nelle sue commedie successive al centro di sogno di una notte di mezza sbornia c'è dunque il popolare gioco dell'otto qui però la scommessa si pone fra la vita e la morte e i rapporti sono fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti Nello sviluppo della commedia è inoltre presenza sostanziale la comunità dei familiari e degli amici stretta intorno al protagonista e dal suo dramma forse più per egoistico interesse personale che per solidarietà e sostegno una comunità grazie alla quale Edoardo può declinare il carattere corale sfaccettato della sua drammaturgia e poi soprattutto c'è il finale che non chiude ma rilancia una sorpresa che non si consuma mai fra gioco dell'esistenza e gioco della scena stasera si replica e certamente sarà ancora un sold out termina qui l'appuntamento con l'informazione grazie per averci seguito a voi tutti una buona domenica visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia a voi